buonasera ragazzi bentornati nel mio video e benvenuto a chi è nuovo questa sera vi mostro la mia routine serale io mi presento mi chiamo vincenza ho 47 anni e sono una siciliana casalinga sono mamma di cinque figli ho quattro maschi e una femmina questo in questo video vado a motivare le pulizie serali sto lavando i panni dal lavoro di mio marito perché ho il vizio che li lavo e poi li metto in lavatrice già bagnati e lavati buonasera 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.